Sono Francesco Carpano, ho 28 anni e mi sono sempre interessato della cosa pubblica, come si chiamava un tempo. Ecco perché dopo la laurea ho iniziato a lavorare nelle istituzioni e dopo varie esperienze professionali è da più di un anno che guido il centro studi di Carlo Calenda. Centro studi che ha scritto un programma molto importante perché siamo convinti che a Roma serva a rimettere al centro il buonsenso e non più la ricerca del consenso invece che i partiti che hanno governato la città hanno messo al centro della adorazione. Carlo Calenda è l'unico sindaco indipendente in grado di farlo. Ecco perché ho scelto di candidarmi con lui all'Assemblea Capitolina. Il 3 e 4 ottobre votate Carlo Calenda, sindaco di Roma, per cambiare Roma e riscattarla sul serio.